In piedi campeggiatori, camperisti e campanari, mettetevi gli scarponi, oggi fa freddo, qui fa freddo ogni giorno, fa freddo, non siamo mica a Miami Beach, sai? Sì, infatti, ma davvero che in tanto mattinato dovete aspettarvi un viaggio difficile, perché c'è una bufera in arrivo. Una bufera in arrivo? Già, aspetta un momento che leggo le previsioni. Dunque, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una grossa bufera in arrivo, è vero? Ad ogni modo c'è un altro motivo che rende questa giornata particolarmente fredda. Sì, fredda, ma emozionante. La grande domanda sulle labbra di... Scrippone, le labbra screpolate, guardali mie. E va bene, quando Phil la marmotta verrà fuori, vedrà la sua ombra? Pansatuni Phil! In gamma, marmottine e marmottoni, oggi è... Il giorno della marmotta! Su, alzatevi e venite in cerca di marmotte. Approfittatene! Ma che diavolo... Buongiorno! Va a vedere la marmotta? Sì. Sarà una primavera precoce? Non abbiamo fatto questo numero ieri. Come sarebbe a dire? Non prendermi in giro, prosciuttone! Che giorno è oggi? Il 2 febbraio, signore. È il giorno della marmotta. Già. Scusa, io credevo fosse ieri. Non vedo l'ora che succeda. Sì, anch'io. Sì, è ora di andare. Dormito bene, signor Connors? Sì, ho dormito bene? Vuole un po' di caffè? Sì, grazie. Lo prendo doppio. Spero che gradirà i festeggiamenti. Anche se c'è una bufera in arrivo. Ha mai avuto un déjà vu, signora? Non credo, ma vado a chiedere in cucina. No, non fa niente, grazie. Pensa di andare via oggi, signor Connors. Possibilità di andare via oggi, 80%. Anche 70%. Mi scusi. Scusi una domanda. Si può sapere dove vanno tutti? Al parco Gobler. È il giorno della marmotta. E si fa solo una volta all'anno, vero?